Questa bellissima conferenza di oggi dà grande slancio e anche voglia di approfondire una necessaria e prescindibile alleanza tra il mondo della geologia, dei geologi europei e le istituzioni europee. Non soltanto io devo fare i complimenti alla Federazione Europea dei Geologi per il grande lavoro che ha posto in essere nella standardizzazione delle competenze a più alti livelli professionali, nella formazione continua attraverso la propria accademia, attraverso seminari e convegni in ogni angolo d'Europa, ma devo rinnovare la consapevolezza che senza il loro apporto per quanto riguarda l'approvvigionamento anche delle materie critiche e delle terre rare, noi non vinceremo la sfida del Green Deal e non vinceremo la sfida della transizione energetica. Quindi è assolutamente imprescindibile per noi che scienza e istituzioni che diventino due rotaie dello stesso binario e soprattutto che si alleino non soltanto per calibrare al meglio la nostra legislazione europea nel metterla in pratica concretamente, ma anche e soprattutto per avere una nuova consapevolezza dell'opinione pubblica. L'attività estrattiva può essere vista come molto impattante, ma se viene coniugata con la migliore e più avanzata tecnologia e con un dialogo costante con le comunità, ecco che da minaccia o comunque da paura diventa una grande occasione. Momenti come questo servono proprio a farci fare sintesi e a partire dal presupposto che è sempre l'educazione che diventa il pilastro fondamentale di una strategia che sia efficace e che possa quindi dare i frutti sperati per un'Europa più indipendente, verde e sovrana dal punto di vista tecnologico.